hola ragazzuoli e benvenuti alle bazze di ss computer oggi andiamo a vedere come visualizzare con vlc qualsiasi film streaming quando è una casa l'ultimo che sto caldando timeless andremo a cliccare su uno share di un episodio per esempio delta beat si aprirà la pagina delta beat e abbiamo qua il nostro bellissimo player con il film dentro cosa facciamo a questo punto visto che usiamo chrome usate chrome mi raccomando andremo a schiacciare f12 e si apre la console dei sviluppatori qua si va su quest'angolino qui cliccando evidenzierà tutti i punti in cui passate sulla pagina andando sul player noterete che ci fa vedere dove è il flusso del film eccola qua la pagina andiamo lì direttamente sul video data delta questo qui copiamo l'indirizzo tasto destro copia andiamo ad aprire il nostro bellissimo vlc media apri flusso di rete incolliamo qui l'indirizzo clicchiamo riproduci e ora abbiamo il nostro bellissimo film a disposizione senza che per dover alzare il volume o cambiare cose si aprano le pagine di pubblicità varie eccetera eccetera ciao ragazzuoli